E' stato il giorno dell'uomo dei sogni, Denis Godeas, finalmente al Mantova. L'attaccante goriziano, 31 anni, appena acquistato dal Chievo con un contratto triennale, maglia numero 99 sulle spalle, è stato presentato ufficialmente oggi, poco dopo mezzogiorno, nella sede sociale di Vialetè. A suo fianco, durante la conferenza stampa, tutto lo stato maggiore del Mantova, il presidente Fabrizio Lori, il DS Giuseppe Magalini e il mister Mimmo Di Carlo. Siamo in compagnia di Denis Godeas, possiamo dire finalmente in bianco-rosso. Sì, è stato un po' lungo, però penso che devo aver avuto la fortuna di arrivare nel momento giusto, nel momento in cui il Mantova sta facendo bene, penso e spero di poter dare il mio contributo già da subito, dalla prossima partita. Sa che qualcuno qua dice, arriva con un anno di ritardo? Ma io dico che sono i tempi giusti, probabilmente l'altro anno mi ero fatto anche un'idea che si potesse fare questo matrimonio, però alla fine ci sono state delle difficoltà. Anche probabilmente perché io ho una situazione societaria, la Tristina era molto complicata, per cui ci poteva stare. Quest'anno ho avuto questa grande opportunità, io spero di potermela giocare bene, di poter dare una mano sin da subito alla squadra. Perché porta con sé sempre il numero 99, per ribadire che è un centro avanti o perché le manca, mi sembra una quindicina di gol per arrivarci a 99 gol in carriera? No, più che altro è stato un caso, l'ho preso 5-6 anni fa e sono un po' affezionato per cui me lo porto dietro, siamo con affetto ancora dal primo anno in cui sono andato a Trieste. Spero porti bene, perché fino adesso qualche gol me l'ha fatto fare, quindi spero di poter farmi apprezzare per quello che faccio in campo anche qui a Mantua. Nessun dispiacere per lasciare la Serie A? No, sinceramente no, perché per com'era adesso la situazione era difficile, perché comunque non essendo turizzato, avendo giocato poco, obiettivamente era a me sinceramente di stare là e non giocare, di stare a Verona e non giocare, non mi sentivo partecipa al gruppo e per cui ho scelto di dare l'opportunità di andare via, di andare a giocare o comunque di rendermi utile in un'altra piazza e penso che tra le possibili questa sia veramente l'occasione migliore e comunque l'opportunità migliore per me per poter far bene. Poi sarò nel campo a parlare, vedremo quello che dirà. Cosa e chi conosce di questo Mantua che so che ha visto diverse volte in tv? Sì, come giocatori conosco bene Noselli perché è della mia zona e comunque ci ho giocato insieme a Trieste, poi Doga, e comunque bene o male la squadra conosco già abbastanza bene perché ci ho già giocato contro più di qualcuno. E poi il Mantua l'ho visto parecchie volte in tv e devo dire che mi ha fatto sempre una grande impressione, quindi penso e spero che sia molto più semplice inserire su una squadra che gioca bene al calcio. L'ultima domanda, comincia col botto con la Juventus? Non poteva cominciare meglio perché è stimolante perché giochi comunque con la squadra, con l'organico più competitivo. Bisogna anche dire che l'obiettivo con una squadra del genere è cercare di farlo assolutamente bene, forse qualcosa di più di bene perché sarà obiettivamente dura perché probabilmente una squadra così forte per battere deve veramente fare il 101%. L'anno scorso Buffon ha segnato col Palermo ma poi avete perso. Sì, obiettivamente sì, un gran piacere, però spero che quest'anno magari di non far gol e che il Mantua riesca a continuare la striscia positiva che sarebbe veramente importante. Oggi i primi due allenamenti di Godeas con i nuovi compagni. Da domani a venerdì mini ritiro della squadra sul Lago di Garda con doppia seduta, quindi sabato amichevole con la primavera di Claudio Valigi. E il sabato dopo, beh lo sapete, c'è la Juve. Intanto con l'arrivo di Godeas i tifosi biancorossi possono sognare ad occhi aperti e a tiffare Mantua ce la metterà tutta persino principessa.